Avete voglia di testare un leader esotico nel TCG di One Piece? Desiderate andare contro il regolamento servendovi a pieno della regola d'oro di ogni GCC? Quale deck quindi potrà rispondere a tale esigenza? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Siamo agli sgoccioli con OP03 e nei mesi passati sono stati diversi leader che si sono contraddistinti tra altri portando a casa risultati importanti. Tra i vari Katakuri, Luci, Yamato dello starter e i soliti Zoro e Barba con il resto a seguire, una ragazza ha visto da lontano il meta anche se personalmente l'ho sempre trovata davvero molto interessante per la sua dinamica che proprio come lei va contro le regole. Sto parlando dinami. La gatta ladra nei mesi scorsi ha vinto diversi tornei diventando leggermente più popolare rispetto a quando 03 è stato pubblicato avvicinando sempre di più aspiranti re dei pirati che hanno iniziato a testare le sue dinamiche e con essi si è unito anche il sottoscritto. Oggi quindi vedremo come questo leader ed il suo deck funzionano analizzando le meccaniche che muovono ogni passaggio del mazzo che se utilizzate al meglio vi permetteranno di vincere uno o più match senza sferrare letteralmente neanche un attacco. O quasi. Prima di continuare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Nami Blu. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5000 punti forza quando attaccherà assegnandogli un don vi permetterà di scartare una carta dalla cima del mazzo se infliggerete danno alle vite rivali. In più il suo effetto primario, assolutamente non da sottovalutare, vi consentirà di portarvi a casa l'incontro se terminerete le carte nel deck. Anche qui saranno presenti inoltre 5 vite e 5000 punti di forza a supporto tipici dei leader monocolore. La decklist in questione quindi sarà completamente rivolta alla realizzazione dell'abilità principale della gattaladra e vedrà in quadruplice copia Mr. One Dust Bones, Buggy di Impel Down, Kaia ed il Triss di Zef per i character, il quartetto di Impel Down All Star, Death Wink, Asop Rubber, Band of Doom, Sanji Spilaf, Desert Spada, Gangnam Giangavell e Love Love Mellow con accompagnare il Triss di Overheat e la doppia copia che vedrà Gangnam Rain e Arabesque Brick Fist per gli event chiudere la profile. Le carte che potrebbero risultare piuttosto atipiche in questo deck potrebbero essere Impel Down All Star, gli Overheat e la coppia di Arabesque e Rain, ma analizzando al meglio ogni singolo elemento scoprirete che Impel potrà tornarvi utile o come carta da scartare principalmente per l'utilizzo dei Gavel o per pescare due carte se rivelata dalla pila delle vite. Gli Overheat fungeranno sia in fase di difesa doppia rafforzando il leader e rimbalzando un personaggio che ancora non ha sferrato il proprio attacco o bersagliando la stessa Kaia che potrà quindi aiutarvi a ciclare carte dal deck innescando più volte il proprio effetto. Mentre per gli Arabesque e i Rain il Gangnam vi difenderà se non avrete don libere a disposizione ed il secondo potrà all'occorrenza o bersagliare un rivale o ancora una volta la stessa Kaia che come avrete sicuramente capito risulterà essere il motore di questo mazzo. Per il lato character invece i Mr. One una volta scesi in campo andranno a recuperare se li avrete già utilizzati i Gavel o i Desert Spada a seconda della situazione che vi ritroverete ad affrontare. Infatti questi ultimi mi hanno salvato più di una volta dallo scartare dalla cima del deck proprio per l'effetto dei Gavel i Pilaf che altrimenti sarebbero finiti nella pila degli scarti rallentando così la dinamica dell'intero mazzo. I bug invece serviranno o come sacrificio per essere scartati innescando i diversi effetti delle carte principali per i loro più mille counter o per recuperare carte come i già menzionati Dust Bones, Arabesque, Rain e all'occorrenza i Death Wink direttamente dal mazzo. Questi ultimi infatti non solo vi forniranno una difesa in fasi di counter pari a 6000 ma vi daranno anche respiro se sarete a corto di carte e personalmente li ho utilizzati spesso soprattutto contro leader che hanno impiegato character con forza pari a 9000 o superiore per resistere quanto più possibile nel mentre tessevo la mia trama in secondo piano. Respiro ve lo darà anche l'utilizzo dei Love Love Mellow nel momento più opportuno visto che oltre ai 4000 punti da aggiungere al vostro leader vi permetteranno di pescare una carta se ne avrete tre o meno in vostro possesso. Le Kaia come già detto saranno la parte fondamentale del deck dato che il loro effetto pesca 2 e scarta 2 potrà dare un boost non indifferente all'auto mille del deck. Se poi avrete la possibilità di rimbalzarle in continuazione per utilizzarne l'abilità più volte di certo la pressione che darete al vostro rivale sarà maggiore il quale ve lo posso garantire durante ogni fase del match avrà un occhio sul terreno di gioco e l'altro sul vostro mazzo. Per agevolarvi ancor di più nel processo di consumo l'impiego degli Zef di sicuro non farà che bene dato che una volta messo il piede in gioco farà tornare un personaggio con costo pari a 3 o inferiore nella mano del proprietario consentendovi poi di scartare due carte dalla cima del deck scartandone ulteriori 7 in fase di combattimento se gli assegnerete un singolo don e se l'attacco infliggerà danni diretti al leader avversario. Infine ci saranno i 4 Asop Rubber Band of Doom che a costo 1 si porteranno dietro una carta dalla cima del mazzo, i Gavel che allo stesso costo scartando un elemento dalla mano se ne porteranno dietro 2 invece e i Sanji Spilaf che saranno praticamente le anfora dell'avidità nel TCG di One Piece dandovi per l'appunto la possibilità di pescare due carte dal deck. In più non sottovalutate la moltitudine di effetti trigger che ogni carta possiederà da innescare nel momento più opportuno e soprattutto se la cosa vi converrà. Quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che lo muovono passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo ponendoci come sempre la solita prima domanda come funziona questo deck? Sarà piuttosto semplice di base dovrete terminare le carte da pescare per vincere il match ma di sicuro l'avversario non starà a guardare e quindi per voi sarà un continuo difendervi da assalti nemici grazie ai vari event a vostra disposizione. Per le Kaia riprendetele in mano quante più volte possibile e lo stesso fate con i Gavel. Per il resto regolatevi di conseguenza e scegliete adeguatamente i bersagli degli effetti che utilizzerete per allungarvi letteralmente la vita durante la partita. Per la fase offensiva avrete unicamente il leader che vi consiglio di utilizzare per togliere di mezzo dei character nemici che potranno darvi fastidio alla lunga e ovviamente gli Zef che con l'ausilio di un singolo don vi daranno una grande mano se colpiranno nel segno. Per la fase difensiva invece tutto il deck sarà volto allo scopo e quindi non vi resterà altro da fare che fare i calcoli per bene per avere sempre quel quantitativo di donne liberi da utilizzare al momento più opportuno. Trattando invece l'argomento mano iniziale le carte must have da avere saranno di certo le Kaia, qualche elemento per rimbalzarle, i Sanji Spilaf, i Love Love Mellow ed un Gavel. Se sarà così potrete procedere tranquilli. In caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup questo deck non temerà confronti ma allo stesso tempo li soffrirà tutti. Vi spiego meglio. Per voi un match conterà come un solitario dove erigire barriere continue rappresenterà il vostro compito principale quindi chi vi ritroverete davanti non vi farà tanta differenza. L'unica cosa che conterà sarà resistere fino a quando anche l'ultima carta del deck non verrà pescata o scartata quindi trovate il modo più opportuno per blindarvi dietro i continui power up degli event a vostra disposizione. Per la win condition ce ne sarà una ed una solamente. Terminare il mazzo. Stop! Non tentate di finire il leader rivale attraverso attacchi prepotenti. Per voi la miglior offesa sarà la difesa. Invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno le Kaia, i Pilaf, i Band of Doom, i Gavel e gli Zef. Mentre i supporti utili che potrete integrare all'interno della lista per provare profile esotiche saranno le Belmer, Lenojiko, Yasopp Rush a costo 4, i Crocodile a costo 7 che vi sconteranno gli event in mano, Daymihawk Counter più 2000 degli starter e Boodle per frenare ancora di più gli assalti rivali grazie alla sua abilità blocker e allo stesso tempo scartare carte dal deck se verrà messo KO. Infine per la fase counter dovrete letteralmente utilizzare ogni risorsa in vostro possesso per sopravvivere. Praticamente per voi sarà una lotta contro il tempo. Più ci impiegherete per finire il mazzo peggio per voi sarà quindi ripeto ancora una volta calcolate bene ogni singola mossa perché un don speso male potrà rappresentare per voi la sconfitta. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Nami parte per seconda questo perché pescare una carta d'inizio turno vi porterà anche se di poco più vicini alla vittoria ma soprattutto perché e questa è la reale motivazione avrete delle risorse in più da utilizzare nei turni che verranno. Un piccolo tip per quanto riguarda i combattimenti. Di solito il primo attacco entra sempre così magari avrete la possibilità di innescare dei trigger come quello del pilaf o dell'all star pescando due carte praticamente gratis. Poi dal secondo cercate di valutare ogni assalto per non scendere troppo e risultare bersaglio facile di offensive più massicce. Tenete a mente questo concetto più andrete avanti nel match più di rado dovrete attingere alle vite ma se la cosa non vi sarà possibile ovviamente attingete ed auguratevi di innescare qualcosa di buono. Ultima cosa da tenere a mente ma non per importanza sarà ogni singolo event o counter dovrà essere a totale disposizione del leader e di nessun altro. Se attaccheranno i personaggi sotto il vostro controllo lasciateli morire. Nami ovviamente sarà un leader che vi divertirà anche perché ultimamente ho visto sempre più spesso uscire vittoriosi dai local in giro per il globo delle liste piuttosto competitive segno evidente che si inizia ad aggiustare il tiro creando una rosa di soluzioni pronte per essere testate ed utilizzate in torneo. Non mi sorprenderebbe vedere la navigatrice in azione anche in OP04 dato che come già ho accennato chi la utilizzerà dovrà preoccuparsi unicamente di costruire muri e scartare o pescare carte anche se con i leader in arrivo a breve ci sarà da combattere più duramente del solito visto che il meta cambierà totalmente di volto e voi avete mai giocato la bellezza dell'East Blue? E se sì come vi siete trovati? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.